Dai, presentiamo insieme la prima cantante. Lo sai chi c'è? Chi c'è adesso? Lo vuoi dire tu? Allora, facciamo venire Cetti. Ma un po' di enfasi. Cetti, vieni qui! Dove sei? Eccola che arriva. Arriva anche la nostra Cetti, la prima cantante, quindi l'applauso deve essere ancora più forte, perché ovviamente lei, essendo la prima, c'è tanta emozione. Allora Massimo, noi lasciamo il palcoscenico e lo lasciamo a lei, alla sua bellissima voce. Cetti, in bocca al lupo. Buonasera. 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 Buonasera.